C'era un giorno in cui l'uomo andò incontro a Gesù, era un uomo straniero che viveva laggiù, molto amato da tutti per le sue virtù. Ho sentito parlare così tanto di te, c'è un mio servo che muore ed io so che non c'è uno che può salvare all'infuori di te. Io ti prego Signore non entrare da me, perché so che il mio cuore non è degno di te, ma con una parola sono certo Signore. Tu potrai guarire questo mio servitore, perché anche io sono un uomo e so quello che fa, e se dico a un soldato devi andare e gli va, io mio servo fai questo e pure lo fa. Non esiste in Israele una fede così, disse allora il Signore rivolgendosi a chi stava lì ad ascoltare e quel servo guari. Io ti prego Signore non entrare da me, perché so che il mio cuore non è degno di te, ma con una parola sono certo Signore. Tu potrai guarire questo mio servitore. Io ti prego Signore entri dentro al mio cuore, non ho al mondo nessuno all'infuori di te. che mi sappia capire, che mi possa guarire, fai che cresca ogni giorno la mia fede per te. Io ti prego Signore, entra dentro al mio cuore, non ho al mondo nessuno all'infuori di te. che mi sappia capire, che mi possa guarire, fai che cresca ogni giorno la mia fede per te. fai che cresca ogni giorno la mia fede per te. fai che cresca ogni giorno la mia fede per te. C'era un giorno in cui un uomo andò incontro a Gesù, ero un uomo straniero che viveva laggiù, molto amato da tutti per le sue virtù. ho sentito parlare così tanto di te. C'è un mio servo che muore ed io so che non c'è uno che può salvare all'infuori di te. Io ti prego Signore, non entrare da me, perché so che il mio cuore non è degno di te. ma con una parola sono certo Signore, tu potrai guarire questo mio servitore. perché anche io sono un uomo e so quello che fa, e se dico a un soldato devi andare e gli va, io mio servo fai questo e pure lo fai. Non esiste in Israele una fede così, disse allora il Signore rivolgendosi a chi stava lì ad ascoltare e quel servo guarì. Io ti prego Signore, non entrare da me, perché so che il mio cuore non è degno di te. Io no, ma con una parola sono certo Signore, tu potrai guarire questo mio servitore. Io ti prego Signore, entra dentro al mio cuore, non ho al mondo nessuno all'infuori di te. che mi sappia capire, che mi possa guarire, che mi possa guarire, fai che cresca ogni giorno la mia fede per te. io ti prego Signore, io ti prego Signore, che entra dentro al mio cuore, non ho al mondo nessuno all'infuori di te. che mi sappia capire, che mi possa guarire, fai che cresca ogni giorno la mia fede per te. fai che cresca ogni giorno la mia fede per te. fai che cresca ogni giorno la mia fede per te. Fai che cresca ogni giorno la mia fede per te. la mia fede per te. la mia fede per te. la mia fede per te.